carissimi pace buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica oggi 8 febbraio siamo di nuovo insieme per leggere e meritare la parola del signore ringraziamo dio per come fino a questo momento ci ha aiutato e ci ha sostenuto con la sua presenza e con la sua grazia e vogliamo anche rivolgere la nostra attenzione alla parola di dio e in un modo particolare a quello che troviamo scritto in prima giovanni al capitolo 3 al verso 16 dove l'apostolo ispirato dallo spirito santo dichiara che da questo abbiamo conosciuto l'amore cioè dal fatto che egli cristo ha dato la sua vita per noi c'è un'espressione di un filosofo comte un filosofo del passato il quale parlando di gesù cristo morto sulla croce le calvari affermò che un amore vinto vale più di una vittoria senza amore credo che tutti quanti noi non possiamo fare a meno di riconoscere la grandezza dell'amore di cristo grandezza dell'amore che è manifestata dalle sue opere compiute su questa terra in favore di persone che si trovavano nel bisogno grandezza dell'amore che è manifestata soprattutto alla croce allora quando egli ha dato la sua vita per la salvezza delle persone senza che questo fosse obbligato a farlo e senza che nessuno si trovasse lì a ringraziarlo o a omaggiarlo per il gesto che stava compiendo infatti a dire il vero sotto la croce c'erano soltanto delle persone che lo dileggiavano e i suoi amici più intimi vale a dire i riscepoli gli apostoli erano tutti quanti lontano tranne giovanni con delle donne che si trovavano lì sotto la croce qualcuno potrebbe dire chi gliel'ha fatto fare l'amore sicuramente qualcuno potrebbe dire ma quell'amore a cosa è servito o si è ritrovato da solo beh in realtà qualcosa è servito meglio è servito a tutto perché tramite quel gesto egli ha aperto una nuova via che permette di poter avere accesso alla presenza del padre e permette ad ogni uomo e ad ogni donna di avere una speranza per la vita eterna di sicuro attraverso quell'opera la vittoria sulla morte è stata ottenuta tant'è che noi credenti abbiamo la certezza che un giorno risusciteremo o se siamo in vita che verremo trasformati in un batter d'occhio di sicura c'è stata la vittoria sul peccato che non ha più potere su coloro che sono in cristo certo possiamo continuare a commettere peccati ma non siamo più schiavi del peccato e quando pecchiamo andiamo al signore e sangue di cristo ci rave e ci purifica da ogni peccato di sicuro ha ottenuto la vittoria su satana il quale un giorno verrà prima legato per mille anni e poi definitivamente gettato nello stagno ardente di zolfo e di fuoco dove insieme alla besse al falso profeta ai demoni e a tutti coloro che lo hanno seguito sarà tormentato giorno e notte e quindi quest'amore che sembrerebbe essere stato vinto dalla malvagità degli uomini in realtà poi è quello che trionfa e che trionfa nell'eternità non soltanto perché cristo sarà innalzato e sarà proclamato e riconosciuto come re dei re e signore dei signori ma anche perché coloro che hanno creduto in lui hanno vissuto in lui otterranno i benefici della risurrezione e della gioia eterna nella gerusalemme celeste e allora dinanzi a quest'amore che c'è stato manifestato noi possiamo fare due scelte rimanere indifferenti e cioè considerarlo come un gesto che è stato fatto da un fanatico che duemila anni fa ha deciso di farsi uccidere lì sulla croce oppure lo possiamo accettare come il dono che c'è stato dato da parte di dio padre affinché tutti quanti noi potessimo avere l'opportunità di essere salvati a ognuno di noi spetta fare una scelta e io spero che quanti stamattina siete in ascolto avete già scelto di fare di quest'amore lo strumento attraverso il quale raggiungere dio per ottenere salvezza e per essere e per vivere scusate in lui e camminare secondo la sua volontà ma se c'è qualcuno che ancora non l'ha fatto oggi è il giorno giusto per fare un passo verso il signore per dire dio se finora mi sono disinteressato e sono rimasto indifferente ti chiedo perdono come ti chiedo perdono per tutti gli altri miei peccati ora ti prego vieni entra nella mia vita cambia il mio cuore ancora prima lavami purificami da tutti i miei peccati rendimi una nuova creatura affinché anche io possa continuare a vivere in quell'amore e possa onorarti e ringraziarti tutti i giorni della mia esistenza per quel grande amore che in cristo gesù hai mostrato e allora se abbiamo conosciuto che dio amore siamo anche chiamati a nostra volta ad amare ad amare non solo dio ma anche il nostro prossimo perché da questo dice la scrittura riconosceranno che siete i miei discepoli dal fatto che vi amate gli uni gli altri e gesù affermò io vi do un nuovo comandamento e questo comandamento è quello di amare e noi vogliamo pregare che il signore ci aiuti ad amare come egli ha amato affinché il suo amore che sparso nei nostri cuori mediante lo spirito santo possa traboccare e possa essere manifestato verso dio verso i suoi figli gli altri credenti e verso il mondo che perisce portando il lieto messaggio dell'evangelo che ancora oggi è la risposta al problema più grande dell'umanità vale a dire la vita eterna che dio ci accompagna e ci benedica ancora oggi e che la sua pace sia con tutti quanti noi